Gentili telespettatori, buona giornata. Giuseppe Conte torna in cattedra, non sale in cattedra, ma torna in cattedra. Dai primi giorni di marzo dovrebbe essere in aula. Prima lezione, indovinate su cosa? Sulla politica. Userà mica l'università per fare propaganda? Ma chi lo sa? Vediamo che cosa dice Fratelli d'Italia. Giuseppe Conte si reinventa. L'avvocato, lasciato Palazzo Chigi, torna dietro la cattedra, unendo le due esperienze, insegnamento e politica. Un fatto che contesta Fratelli d'Italia, che punta il dito. Dicono così, dal partito di Giorgia Meloni, apprendiamo che l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si recherà venerdì prossimo all'Università di Firenze, dove è docente ordinario di diritto privato. Fin qui è tutto normale. Eh, si tratta di lavoro, è il suo lavoro. Peccato però che il FU, non Mattia Pascal, ma il FU, presidente del Consiglio, non si limiti solo a questo. Vediamo di approfondire la notizia. Quello che ritiene grave Giovanni Donzelli e Paola Frassinetti di Fratelli d'Italia, che chiedono una interrogazione parlamentare, è il fatto che Conte terrà una lezione in diretta video streaming trasmessa sul sito dell'Università per parlare della sua esperienza al governo. Insomma, un autoproselitismo, dicono da Fratelli d'Italia, ora che non ha più poltrone dalle quali concionare, non usi l'Università pubblica come pulpito per fare propaganda politica. D'altronde, Conte potrebbe non aver affatto accantonato l'idea di tornare in politica, magari proprio alla guida del Movimento 5 Stelle, come tanti grillini vorrebbero. In realtà è così. Conte sta aspettando il momento giusto, il momento giusto, il momento giusto per tornare in politica. I grillini lo adorano, lo amano, noi ti amiamo, torna, torna da noi. Lui dice, mamma mia, tornare dai grillini, oh mamma. Insomma, è un po' restio Conte, fare il capo dei grillini, insomma, non è proprio il sogno della sua vita, fare il capo dei Toninelli, dei Di Maio, delle Lezzi, insomma, delle 30, io voglio la casa grande, ho le relazioni. Insomma, non credo che salti sul divano col telecomando in mano all'idea di essere il capo dei 5 Stelle. Quindi sarà combattuto internamente tornare in politica con i 5 Stelle o stare all'università e tornare nell'oblio e nella dimenticanza. È così. L'Ateneo Fiorentino, prima della disfatta del Conte Bis, si diceva pronto ad accogliere in qualsiasi momento il suo docente. È così. È stato. Noi lo accogliamo ben volentieri per fare il suo lavoro. Aveva detto il rettore Luigi Dei, già il nome Dei, un semidio sarà, no? Così il ritorno dell'ex premier tra gli studenti è stato realizzato in tempi record, perché dicevano che avevano già fatto il calendario del secondo semestre. Insomma, avevano già assegnato le classi, no? A ogni professore tu hai questo, tu hai questa materia, tu hai questa classe. Ecco, se i suoi corsi sono calendarizzati per il secondo semestre, faceva sapere sempre il rettore, potrebbe tornare subito in classe. Se invece fossero già stati fatti dei suoi sostituti, Conte tornerebbe a fare l'attività di professore ricevendo studenti, facendo esami e ricerca, in attesa di tornare in cattedra con la prossima, con il prossimo semestre. Quindi voi sapete che i professori universitari, il loro tempo non è tutto in aula, ma una parte del loro tempo dovrebbe, e dico col condizionale, dovrebbe essere quello di fare ricerca, investigazione accademica. Dovrebbe, perché tanti fanno finta di farlo, ecco. E così Conte avrà anche una riunione con la presidente della scuola di giurisprudenza, Paola Lucarelli, e con il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Andrea Simoncini, per definire i suoi prossimi impegni didattici come ordinari di diritto privato dopo i tre anni di aspettativa automatica. E quindi è un Giuseppe Conte che andrà a fare propaganda politica. Allora, io vi racconto questo. Quando io ho fatto l'università, avevo un professore di diritto, proprio come Conte, no? Professore di diritto Conte, quello che avevo anch'io, professore di diritto, che faceva propaganda politica in classe. Lui era un esponente, credo se non ricordo male, del Partito Democratico, che forse ai tempi che ho fatto in università non si chiamava neanche Partito Democratico, aveva un altro nome. E lui invitava a chi volesse andare ad ascoltarlo mentre lui faceva una conferenza, una riunione politica. E lui ovviamente faceva propaganda in classe. Non è una novità che i professori universitari fanno propaganda politica in classe. Ed è per questo che gli studenti universitari che tendono a credere al professore universitario come se fosse un oracolo, vengono manipolate, gli studenti vengono manipolati, vengono indotti a credere a quello che dice il professore. Spesso i professori, adesso le cose stanno cambiando, ma spesso i professori universitari sono di sinistra. E quindi tutta la loro lezione, che sia storia, che sia qualsiasi cosa, è indirizzata a far vedere il mondo ai ragazzi e le ragazze in una maniera sinistra, con una veduta politica di sinistra. Questo l'ho visto proprio con i miei occhi, l'ho ascoltato con le mie orecchie. Quindi ovviamente, naturalmente, quando Conte sarà all'università con i suoi alunni e anche se farà queste conferenze, perché all'università si fanno anche delle conferenze, anche questa lezione in diretta video streaming all'università non la si può impedire, anche se ovviamente lui in queste trasmissioni, in queste lezioni, lui parlerà di politica con la sua visione. Non può essere imparziale. Quindi su questo, credo, cari amici di Fratelli d'Italia, non ci si può fare assolutamente nulla, di nulla. Non glielo si può impedire né all'università né a Conte di fare la sua lezione in video streaming trasmessa sul sito dell'università. Siamo in tempi di pandemia e le lezioni si fanno in video streaming. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.